ciao ragazzi vi do il benvenuto in questo nuovo video io sono alex z e oggi siamo su gta online per farvi vedere come trovare la lava di minecraft qui su gta online innanzitutto dovete aggiungere un'attività dal social club che vi metterò il link in descrizione adesso vi farò vedere il procedimento innanzitutto andremo su start online attività ospite attività preferite andiamo su cattura e troviamo la cattura che vi ho messo in descrizione quindi quella per avere la lava su minecraft siamo entrati nella cattura e io ho messo arma fissa più raccoglibili e tutti i punti quindi per finire subito perché se mettete tutto il tempo dovete aspettare quasi mezz'ora praticamente adesso cerco di invitare qualcuno e noi ci vediamo nell'attività ed ecco centrati nell'attività come vedete questa lava di minecraft che anche se sparate non è fucchiuto praticamente niente qui nell'aria adesso proverò a prendere l'elicottero a passarci attraverso come vedete non succede niente è solo tipologramma praticamente ed è veramente divertente questa cosa adesso atterrerò per andare a prendere la valigetta così per terminare la l'attività sono due sistemi per terminare o prendere la valigetta oppure uscire dall'attività comunque se prendete la valigetta ovviamente vinceretevi da rp e dollari abbiamo preso la valigetta adesso concludo l'attività spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale perché mi ha orato molto e vi ricordo che a 100 iscritti farò il blog un saluto ciao ragazzi